Insalata di arance e finocchi, una prelibatezza invernale. Preparare un'insalata di arance e finocchi è un modo semplice e veloce per preparare una portata invernale davvero prelibata. In questa ricetta scoprirete come creare un'insalata di arance e finocchi con una salsina di vinaigrette. Gli ingredienti necessari sono 2 arance, 2 finocchi e 2 cucchiai di succo di limone, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale, pepe. Iniziamo con la preparazione della nostra insalata. Lava le arance e i finocchi, quindi sbucciali tutti e tagliali a fette sottili. In una ciotola, metti le fette di arance e finocchi insieme. In una ciotola a parte, mescola il succo di limone, l'olio extravergine d'oliva, il sale e il pepe, quindi versa la salsina preparata sull'insalata di arance e finocchi. Mescola il tutto in modo uniforme ed ecco pronta la tua insalata di arance e finocchi. Servi la tua insalata di arance e finocchi e goditi una prelibatezza invernale. Grazie. 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 Grazie.